Però, devo dire che... La somma di 500 euro in contanti è ritenuta essere il provento dell'attività illecita. Inoltre, durante una perquisizione effettuata nella sua abitazione, sono state sequestrate altre 26 dosi di cocaina, due involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Oltre a questi, però, i poliziotti hanno trovato una pistola semi-automatica Beretta, con un caricatore munito di 5 proiettili. L'arma è priva dei segni distintivi e quindi è clandestina. Abbiamo trovato questa pistola, è una pistola di piccolo calibro, anzi il calibro più piccolo, nel senso tecnico, si è 35, però è una pistola da non sottovalutare. Di piccole dimensioni, ma non di piccola pericolosità. Perché è già stata questo tipo di pistola, non questa, ma questo tipo di pistola utilizzata anche in numerosi casi di omicidio, alcuni dei quali famosi come quello di Veroli a Roma. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del pensionato disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa del processo. Le indagini, però, proseguono per capire dove è stata presa quest'arma e chi uso ne è stato fatto. Saranno predisposte delle perizie tecniche volte a stabilire se l'arma è stata utilizzata in altri episodi di sangue.